Spese pazze, è proprio il caso di dirlo quando si parla di Johnny Depp Spese pazze, è proprio il caso di dirlo quando si parla di Johnny Depp La star di Hollywood, come fanno sapere i suoi ex commercialisti Joel e Robert Mandel, spende 2 milioni di euro al mese, e vive al di sopra delle sue possibilità I due professionisti, che hanno intentato una causa contro di lui dopo il licenziamento in tronco per delle controverse legate proprio alle sue spese, lo hanno detto in tribunale E la vicenda è finita in tribunale Depp per vent'anni ha speso circa 2 milioni al mese, tra aerei privati, vini pregiati, yacht, residenze da sogno, 14 in tutto, e persino un castello in Francia Una vera e propria patologia, sempre secondo quello che hanno dichiarato i commercialisti, che necessiterebbe di più Grazie a tutti